A voi alla G.E.T.G.E.S.P.R.S. Salis, confermati segretari del PD, nuove riunioni del Consiglio Comunale, manifestazione a favore della Cataluña, basket a 2 guagna alla Mercedes Alguero, Rebbi guagna l'amatori Alguero. Sigla! Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche, lo facciamo bene e puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno, al coperto 750 euro l'anno. Vought Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alguero, via dell'economia. Buongiorno, ben trovati alla G.E.T.G.E.S.P.R.S., l'appuntamento quotidiano e la formazione del G.E.R.O. Channel. Un saluto gran ai amici catalans. Mario Salis, confermati segretari cittadini del PD, lo risultato principale della riunione di sata passati del Partito Democratico, la nota ufficiale. L'OPD e tutte le forze politiche o civiche che si riferiscono all'area del centro di scherra, s'attangarà di impegnare a creare le dimissioni, le condizioni per la sottoscrizione di un nuovo patto politico e programmatico che, con obiettivi precisi, condividi, interpretati e interpretati, affidabili e rappresentativi, obri una nuova fase di governo e ricostituzione del centro di scherra. L'OPD s'empegna a sostendere ma forza e llanzare, di nuovo, la situazione politica e administrativa, ma spirito e belt, e senza prejudiciarsi nell'interess della città e razzalcant, le opportune convergenze programmatiche per la conclusione del mandato administrativo. Banchi di prova di Akesha rinnovare la stagione politica dell'Aghè, è previsto già da voi, ora si dirà tale della riunione del Consiglio Comunale, e si appogherà avere ora i movimenti entro i banchi della maggioranza e dell'opposizione. Buona partecipazione delle cittadinze alla manifestazione della solidarietà del popolo català organizzata in Prasso del Municipio, del Comitato di Solidarietà di Cataluña dell'Aghè, e che ha visto anche la partecipazione dei rappresentanti dei Sardos, Akesha Taldan, Tangarin, e Stefano Campos, Presidente dell'Ombio Culturale dell'Aghè. La Mercedes Alguero guagna contro la Ceprini Costruzione Orvieto, paltina valida per la quarta giornale del campionato nazionale dei addos, dei basket femminile. Ara avevo la regia e tu ne le guandiretta. È arrivata l'app di Alguero Channel, la web social tv. Puoi vedere l'Alguero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci e a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalguerochannel.it Alguero Channel, web social tv. L'amatori Alguero, ghiara di Anversa, guagna in casa per 26 adeo, contro tutto Cialdeleco. La gara della quarta giornale del campionato nazionale, sarebbe direbbi giugare di Santa Maria Pia, hanno anche guagnato il bonus, e fu usata in caccia folta altri cinchi punti. La curiosità è di voi. Parlando di Olt, a che smesso, pure improntare seba, al, incalzare il fanol, e sembrare anche il biso e il rava. Per qualsiasi raggiungo informazioni, pregunte, mi volevo contattare la pagina Facebook di Alguero Channel. Ora, le previsioni del tempo si pede a ma. A muzie ora. Grazie. 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 Grazie a tutti.